Diversi esercizi commerciali, bar, comproro, sala giochi ed internet point passati al setaccio da parte degli agenti del locale commissariato di polizia diretti da Francesco Marino su disposizione del questore di Caltanissetta Bruno Megale. Due pensionati gelesi di 86 e di 80 anni sono stati deferiti per omessa comunicazione all'autorità di polizia della variazione del luogo di detenzione delle armi denunciate. Inoltre è stato controllato un autolavaggio di contrada Margi di proprietà di una 32enne all'interno del quale sono state rinvenute 5 moto da cross di cui una con il telaio palesemente contraffatto e le altre sprovviste della regolare documentazione. Non essendo in grado di dimostrare la provenienza dei veicoli i mezzi sono stati sequestrati cautelativamente ed il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi della reato di ricettazione. Inoltre la polizia sta avvaiando la posizione del titolare circa il possesso della licenza per la gestione dell'autolavaggio. 35 le persone controllate saranno approntati altri controlli ai vari esercizi pubblici presenti sul territorio al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti. Continua inoltre la peculiare attività di verifica delle licenze di armi in merito all'attualità dei requisiti psicofisici e morali dei titolari. E i carabinieri hanno arrestato un operaio mazzarinese di 46 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni della procura della Repubblica di Galtanissetta. Si tratta di Giovanni Siciliano. Deve scontare 5 mesi e 24 giorni per estorsione aggravata in concorso e rapina aggravata reati commessi nell'ottobre del 2006 per favorire la consorteria mafiosa. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Contrada Balate a Gela.